Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di MonoSport07 Siamo qui con i 10 migliori difensori centrali al mondo Diciamo che sono i 10 più che migliori al mondo Magari possiamo dirli anche più in forma ragazzi E' chiaro che se non ho fatto cagare Nanno Non è che lo metto in start-up Cagliere e Bastoni, così come De Vrij O magari, che ne so, Bonucci Magari avranno fatto bene Però ragazzi vi annuncio che non ci saranno questi giocatori Anche se sono comunque del campionato italiano Chiaro, non ve lo posso spiegare Alla fine non ha incontrato, oltre alla Serie A, grandi palcoscenici Stesso il discorso magari può essere fatto anche per altri difensori centrali Che comunque qui mancano Comunque ricordo ragazzi che sono semplicemente le mie opinioni Ma noi non perdiamoci in chiacchiere Partiamo subito col video, vamo ragazzi In decima posizione ci metto da io, Upamecano Perché Upamecano è stato un difensore che ha avuto una crescita esponenziale l'ultimo anno Ma più che altro perché è arrivato a giocarsi la vittoria della Bundesliga con l'Ipsia E ha tasso di sicurezza sui suoi Chi non l'ha visto giocare non può capire Perché ho lasciato fuori gente come Kair o altri per inserire lui Quindi decimo da io, Upamecano Nonna posizione invece per Kaledu Kulibali La doppia K, il padrone della lettera K È stato sicuramente un incendendo diciamo rispetto agli ultimi anni Cioè è andato calando Però insomma secondo me questo non toglie che è il nono difensore centrale più forte del mondo È completo, forte di testa, bravo nelle posizioni del fisico Monstruosi nel recupero di palla Per me rimane il nono difensore centrale più forte al mondo Davanti a lui un altro leader della sua difesa La Porte Se il City ha dimezzato Anzi trimezzato Non so se si può usare sto termine I gol subiti rispetto lo scorso anno Sicuramente grazie a questo giocatore qui Il francesino che è un leader difensivo ormai della formazione guidata da Pep Guardiola Quindi ottava posizione per La Porte Che è arrivato comunque al quartil finale di Champions Settimo invece Diego Carlos Diego Carlos che ha deciso una finale di Europa League con una rete inrovesciata ragazzi All'Inter tra l'altro e da Juventino ancora ci guido Quindi insomma è stato il leader della sua difesa sicuramente E secondo me ne sentiremo molto parlare di lui nei prossimi anni Nonostante comunque non sia giovanissimo Dunque settima posizione per Diego Carlos Davanti a lui un'altra conoscenza del campionato italiano Ovvero Stefan De Frey Centrale olandese dell'Inter Che si è preso la difesa di Antonio Conte La sta praticamente trascinando A suon di incornate Perché è bravo di testa E bravo tecnicamente anche nei lanci Sta facendo un po' il bonucci dell'Inter Diciamo così E soprattutto è un leader difensivo Che praticamente ti recupera ogni pallone Davanti a lui però ci va Marquinhos Che ha fatto una finale di Champions League ragazzi Quindi non stiamo a parlare dell'ultimo arrivato Questo dimostra come ogni giocatore che si andava dalla Roma Come Alisson, come Marquinhos, come Salah Va a trovare praticamente fortuna in ogni squadra ragazzi Davvero incredibile Trascina il PSG in finale di Champions Più di Kimpembe, più di Diallo, più di Tago Silva Per questo si merita la quinta posizione Quarto De Ligt Molti l'avrebbero messo magari tre primi tre Però per me De Ligt deve ancora arrivare tre primi tre E da Juventino dico che per me lui È il quarto difensore centrale più forte del mondo Né di più né di meno Almeno secondo il mio parere Davanti a lui comunque può andare a prendere tutti e tre Anche se non credo in un futuro recente Cioè magari in un anno Però secondo me è il difensore del futuro E sono orgoglioso di averlo l'evento Davanti a lui però uno dei mostri sacri per il momento È Sergio Ramos Stagione veramente mostruosa la sua Stagione fatta da leader C'è un toglie che comunque è uscito in semifinale Di Supercoppa Spagnola È uscito agli ottavi di finale di Champions League Dove comunque non è arrivato Varane Non è arrivato nemmeno lui alla fine Anche se gli errori principalmente li ha fatti sicuramente il francese Però insomma per me Sergio Ramos non merita la loro unedizione Comunque ho preferito dire perché l'ho messo terzo Secondo invece Alaba Ecco lui invece ha vinto la Champions League da protagonista È stato un difensore centrale che avanzava, crossava, avanzava e tirava Impostava da dietro Ha fatto praticamente di tutto ragazzi E soprattutto ha difeso bene Ha fatto bene i contrasti, le marcature Anche per essere un difensore centrale Quindi ha giocato veramente benissimo Per questo lo vado a mettere Secondo Primo secondo me inarrivabile Certo rispetto al 2019 sarebbe stato un qualcosa di clamoroso Ma non ci è riuscito Però comunque anche il 2020 Anche l'ultimo annetto L'ha fatto veramente benissimo Virgil van Dijk A cui nessuno si riesce lontanamente ad avvicinare ragazzi È vero è uscito l'ottavi di finale di Champions Ma io non riesco a mettere nessun difensore centrale davanti a lui ragazzi È più forte di me Virgil van Dijk è il difensore centrale attualmente più forte al mondo Detto questo ragazzi Il video termina qui Spero che il video vi sia piaciuto Se è piaciuto l'invito a lasciare un mi piace Casi contrarre con i dislike Commenti se siete d'accordo o disaccordo con me Se non è ancora fatto Iscrivetevi al canale In descrizione il link per sicuramente Instagram da MonoSport 07 È tutto E noi ci vediamo in un prossimo video Bella ragazzi